Nell'occasione della divaia della tempesta è stato chiaro alla pubblica opinione del nostro Paese che mutamenti climatici che sono in atto nel mondo comportano effetti pesanti anche sull'ambiente del nostro Paese e sulle condizioni di vita della nostra gente. Sentire parlare della desertificazione di alcune regioni africane o dei tifoni violenti dei Caraibi o sulla costa occidentale degli Stati Uniti o in Asia sembrava descrizione di una realtà lontana, remota, che non ci riguardava. Un evento straordinario come quello di ottobre, eccezionale secondo gli esperti, ci costringe invece a fare i conti con la realtà della vita quotidiana. È a Belluno oggi che esorgiamo questa riflessione. È giusto farlo sulle Alpi, è giusto farlo qui, che sia la montagna, grande questione nazionale, assieme a quelle e tutte le aree interne, a proporci ancora una volta il tema delle risorse naturali del nostro Paese, della tutela che a loro va assicurata, della garanzia da offrire ai cittadini della sicurezza dei territori. Gli sorsi compiuti nelle diverse conferenze internazionali che sono succedute in questi anni hanno seguito risultati significativi, ma ancora parziali e insufficienti. Siamo sull'orlo di una crisi climatica globale, per scongiurare la quale occorrono misure concordate a livello globale. È il senso della sollecitazione pubblicamente sottoscritta nell'autunno scorso da alcuni capri stati europei. Grazie.